8 gennaio. Una data dolorosa per la città di Bitonto. Una data che rinnova un lutto che dura da 41 anni. Da quel maledetto giorno del 1980 in cui a Milano, in via Schievano, tre agenti di polizia perdevano la vita per mano delle Brigate Rosse. Erano l'appuntato Antonio Cestari, il vicebrigadiere Rocco Santoro e il 24enne Michele Tatulli, di Bitonto. Alle 8 e un quarto Michele Tatulli e i suoi colleghi erano in servizio di perlustrazione in borghese con un'auto civetta per fabbriche e scuole nella parte sud di Milano. All'improvviso vennero speronati da una 128 bianca e i brigatisti Niccolò De Maria, Barbara Balzerani, Mario Moretti, Nicola Gianicola spararono. Non ci fu scampo per i tre poliziotti. Una delle pallottole colpì Tatulli al cuore, uccidendolo. La motivazione? Un macabre messaggio di benvenuto al generale Carlo Alberto dalla Chiesa, appena giunto a Milano per contrastare il terrorismo di matrice politica che stava insanguinando l'Italia. Erano i cosiddetti anni di piombo, anni maledetti, anni di speranze e di delusioni, anni di passione, di illusioni, di fallimenti, ma anche di idee politiche criminali che, da destra e da sinistra, predicavano la lotta armata come strumento utile alle proprie rivendicazioni. E il giovane Michele Tatulli fu uno dei tanti che pagarono con la propria vita la follia di quelle idee volte a rovesciare lo Stato democratico. Si sarebbe dovuto sposare a breve, ma il fanatismo dei terroristi interruppe i sogni e le speranze di un giovane 24enne. I funerali si svolsero l'11 gennaio, in una giornata piovosa. Anche quest'anno, come sempre, il comune di Bitonto ha celebrato il suo ricordo nell'altro di Palazzo Gentile, di fronte alla lapide in suo onore. Ricordare di quanto si è privato Michele e la sua famiglia pur di servire lo Stato e paragonarlo poi ai piccoli sacrifici che lo Stato ci chiede per aiutare tutta la nostra società, forse pensando a questo ci lamenteremmo meno. Forse pensando a questo capiremo e comprenderemo meglio quanto siamo importanti noi stessi per lo Stato. Abbiamo voluto ricordare Michele in questo modo, come servitore dello Stato, una persona che ha sacrificato tutto per lo Stato italiano e per la patria. E ancora oggi, secondo me, si sacrificherebbe ancora, ancora e ancora. Dure le parole della sorella Grazia, da sempre in prima linea per mantenere viva la memoria. Essere giovani significa avere una vita davanti. Ciò che non ha potuto avere mio fratello, a tradimento, l'hanno ucciso. Per i brigatisti e per tutti gli assassini, tanto rispetto e tanta riverenza, secondo me non ci deve essere. Chi sbaglia paga.